Ciao a tutti i miei nuovi video, io sono Andy Gamer e oggi si siamo venuti su Browspurs, ma la pixel arriverà dopo, ma non adesso. Come potete vedere nel negozio c'è già ambra che posso ovviamente 700 trofei perchè è leggendario, ma io sì, avete capito, me la sciocco subito, figurati, sono scopo scevoli, bene, quindi, chiusiamo, 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 diamo, 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 io sono stecca, posso pubblicitaria, sei iscritto al mio canale, ti invito a controllare, perchè avete iscritti fare un super speciale, buona visione. e 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